Pocer del Monospolis sul non facile campo del Manfredonia. I biancoverdi si impongono per 4-1 e lanciano un forte segnale alle battistrada, padroni di casa danneggiati da un pessimo arbitraggio. Succede tutto nel secondo tempo con il Manfredonia che chiude nella propria metà campo gli avversari e li trafiggia con Gentile, molto bravo a capitalizzare un suggerimento di La Porta. Dura solo tre minuti però la gioia dei biancocelesti raggiunti su calcio di rigore alquanto dubbio dall'anzillotta. Un episodio che innervosisce molto i giocatori del Manfredonia i quali vanno in bambola nelle successive azioni da rete del Monospolis. Al ventinovesimo ospiti in vantaggio con Corvino che sfrutta al meglio un assist di Lacriola e soprattutto uno svarione difensivo di Quitadamo e batte Maggi. Al trentasettesimo il terzo sigillo biancoverde ad opera di Camporeale complice un'altra dormita generale della retroguardia biancoceleste ed infine il gol dipinto nei minuti recupero. Risultato finale a Manfredonia. Monospolis batte Manfredonia 4-1.